Signori, scenario numero 2, ve l'ho detto che sarai ritornato con un pochino di esempi di gioco perché qua non si finisce più di imparare e in questo scenario abbiamo due fazioni, da una parte c'è Zeus che vedete qua con i Spartan e Leonidas a proteggere la situa lui ha delle abilità interessanti e dall'altra parte ci saranno Ares e Hades che devono essere ancora ingaggiati perché fanno un'imboscata a Zeus l'obiettivo del giocatore di Ares e Hades è quello di eliminare Zeus perché sono incazzati neri mentre Zeus vince se elimina gli altri due oppure se va a reclamare i due Onfalos che vedete qui e qui inizia il giocatore di qua perché ha l'imboscata quindi per prima cosa va ad ingaggiare Ares sul terreno che entra in gioco e naturalmente con un Art of War card scarta una carta di Hades e ingaggia anche Hades e si sono incazzati neri eh loro due perché vogliono fare vendetta Zeus ha un movimento di due quindi lo attiviamo uno e due andiamo verso queste colonne e poi direi che è il momento di attivare anche con un Art of War andiamo ad attivare Leonidas e anche Leonidas siccome al guard va qui per fare un po' di protezione Ares qui pesca due robe andiamo a vedere un pochettino ok possiamo attivare un po' di gente quindi andremo ad attivare Hades no prima di tutto Ares allora Ares si muove di uno e di due e Ares ha un attacco range uno quindi può raggiungere questa zona e sparare direttamente a Zeus ma Leonidas ha la guard talent quindi può proteggere Zeus quindi dichiara la guard talent e lui adesso andrà ad attaccare Leonidas Leonidas è nei casini Ares ha il mighty throw quindi riesce ad attivarlo poi ha una difesa di 7 facciamo così tengo questo 5 ok questo 3 scarto due dadi e diventa un altro 5 e ritiriamo questi due attenzione ok questo qua era un colpo questo sono vuoti quindi una ferita per Leonidas per il giocatore di Ares non è ancora finita perché scarta un Art of War insieme a una carta di Hades e attiviamo anche Hades anche Hades ha un movimento di due quindi uno e due entriamo in questa zona e spariamo di nuovo lì quindi Zeus dichiara di nuovo la guard e andiamo a vedere un pochino oh un altro attacco spisso contro Leonidas che è nei casini a questo punto sono 3-5 anzi un quarto 5 quello lo mettiamo da parte ah tra l'altro lui era stato spinto ok quindi significa che attacco direttamente Zeus perché ho attivato il mighty throw giustamente quindi questo attacco è diretto contro Zeus una difesa di 9 ok direi 10 questo qua può diventare un 4 quindi sono due danni contro Zeus e Zeus è ben circondato quindi andiamo a pescare una carta ok uuuuh ecco Zeus e adesso su cazzi perché Zeus può attivare la sua lightning e scatenare una sfuriata di fulmini facendo questo come attacco scarta due Art of War per fare un X-Dice quindi 9 dadi ok come indicato qua range 3 quindi può spararlo a distanza elevatissima quindi prima di tutto Zeus si sposterà indietro perché per ottenere la protezione di Leonidas e andrà a fare un bell'attacco con 9 dadi ed essendo un attacco ad area attacca tutte le unità che sono in un'area ma deve fare un tiro separato per ogni unità che attacca in questo modo comprese eventuali unità amiche quindi il fuoco amico c'è attenzione andiamo a fare questo attacco di 9 eccolo qui un po' di colpi abbiamo anche il Mighty Fro intanto attaccavo Ares questo è un altro 5 questo qua è un altro 5 questi due li metto da parte allora il Mighty Fro non l'attivo in realtà perché ho solo un bianco e per un dio ne servono due però andiamo a fare un tiro Ares ha una difesa di 9 ok quindi direi che due colpi se li prende Ares in realtà inizia lo scenario ferito quindi con due punti ferita quindi se ne prende altri due e va a 6 quindi adesso attacchiamo Ades ok 2,5 e questi qua li teniamo da parte andiamo a ritirare questi Ades ha una difesa di 8 ok quindi qua questo è 5 più 5 è sufficiente 5 più 3 e questo qua lo facciamo diventare scartando due un altro 3 quindi sono tre polpi è il momento di attivare Ares e Ares fa un movimento e un attacco range 1 per le Onidas che va a proteggere la situa ok abbiamo 1 ok questi li mettiamo da parte questi diventano ok quindi direi che sono due colpi per le Onidas dopodiché Ares può attivare la sua frenzy e quindi alla fine della sua attivazione posso scartare una carta di Ares per fare un movimento e un attacco aggiuntivo yeah quindi infiliamoci qui boom yeah va ad attaccare la zona Zeus ma c'è ancora Le Onidas che protegge e Ares continua a sparare anzi Ades scusate e qua c'è un 5 questo qua diventa un altro 5 questo 3 diventa un altro 5 questo lo mettiamo da parte attenzione Le Onidas in pericolo mmm ok direi che scartando questo 1 vado a generare altri 2 danni a Le Onidas e Le Onidas a forza di proteggere è agonizzante e quindi direi di aggiungere gli Spartans alla Ressa quindi gli Spartans si muovono e andranno ad attaccare lui no scusate attaccano lui ok attaccano Ares attenzione che Le Onidas ha la bolster talent significa che le truppe amiche nella sua area acquisiscono un attacco e una difesa quindi sono più forti gli Spartans quindi gli Spartans tirano un totale di 6 dadi 6 dadi contro Ares che ha una difesa di 8 oh yeah quindi questi qua possono diventare 2-5 questi li metto da parte difesa di 8 ok e sono due colpi perché questo diventa un 3 e fanno due danni ad Ares e se non attacco corpo a corpo possiamo fare un retaliate quindi può rispondere all'attacco quindi Ares tira 7 dadi e gli Spartans hanno una difesa più 1 a causa dell'abilità di Le Onidas quindi hanno una difesa di 7 ok qua abbiamo intanto un Mighty Throw questo lo metto da parte ritiro questi ok diciamo che è un solo colpo ok questi qua sono stati beccati quindi uno Spartan un solo Spartan se ne va gli altri due invece vengono spinti attraverso il Mighty Throw e vuole attaccare Zeus naturalmente lui farà una protezione anzi direi che non rischio con Le Onidas quindi non attivo il Guard con Le Onidas che è un solo un punto vita piuttosto decido di subire tutto con Zeus vediamo un pochino oh brutto brutto allora abbiamo 2-5 questo diventa un altro 5 questo 3 diventa un altro 5 quindi sono un po' di danni vediamo Zeus attualmente ha una difesa di 8 ok quindi Zeus si prende un polpo e c'è anche un Mighty Throw quindi lo lanciamo verso questa direzione perfetto naturalmente prima di essere lanciato Zeus può fare un contraattacco 7 dadi di Zeus 1 questo 3 diventa un altro 5 questo non basta 2 da parte vediamo difesa di Ares 7 è sufficiente 2 polpi per Ares ora attiviamo Zeus allora Zeus va a reclamare questo Onfalos non lo assorbe lo reclama e poi con un movimento di 2 fa 1 e 2 si allontana alla fine del turno scarta una carta di queste per richiamare una unità di truppe quindi vengono tutte qua adesso Ares deve pescare e non ha più niente in mano cosa succede in questo caso tutti gli altri giocatori prendono in mano tutto il mazzo tutto quanto poi i giocatori mescolano e pescano altre 3 carte Ares si attiva e quando si attiva Ares attacca direttamente il povero Leonidas che ha un solo punto vita vuole farlo fuori una volta per tutte Ares però è ferito e tira solo 6 dadi ok abbiamo un 5 in realtà Leonidas ha solo una difesa di 5 quindi in ogni caso un 5 è sufficiente quindi Leonidas viene distrutto ora scarto un altro war card per attivare anche Ares e Ares naturalmente colleziona le anime quindi quando un'unità è distrutta pesca una carta e guadagna una vita tira 6 dadi contro una difesa di 8 questi possono essere trasformati in 2-5 naturalmente questi per il mighty throw e i guard i spartans vanno a fare difesa quindi i spartans in realtà ok 2 cimiti via e quello che rimane viene spinto dal mighty throw e Zeus è in una bella posizione perché adesso si attiva fa un'attivazione complessa significa che va ad assorbire uno di questi onfali e prende in mano una onfalos card adesso fa una seconda attivazione scartando due carte Leonidas che è morto e quindi possono essere usati in funzione dell'art of war card in realtà non faccio così ok quindi mi riprendo le carte vediamo piuttosto di a fine turno scarto un art of war per richiamare le mie truppe purtroppo Ares come vedete è talmente ferito che non ha punti di movimento quindi praticamente non si può muovere e non può fare attacchi a distanza siccome Zeus è già in procinto di acchiapparsi e assorbire il secondo onfalo l'unica possibilità di Hades è quella di entrare in questa zona e di reclamare l'onfalo a questo punto Zeus attiva gli Spartan che sono completi quindi 5 dadi per gli Spartan contro una difesa di 7 di Hades sono 2 quindi può lanciarlo questo è un 5 questo diventa un altro 5 ritiriamo questi 2 ok quindi abbiamo un danno però anche gli Spartan hanno il mighty throw quindi Hades viene lanciato poi Zeus fa la seconda attivazione scartando due Leonidas morto in funzione dell'Art of War e attiva lo stesso Zeus che fa un'azione complessa quindi per ultima cosa assorbe l'onfalo che gli serve per la vittoria un'azione che